Allora siamo con Dimitrio Sunas, che tipo di partita è stata? Secondo me abbiamo fatto una grande partita contro una squadra come abbiamo visto forte, non è un caso che stanno a prima classifica, peccato per noi perché potevamo chiudere la partita sul primo tempo, abbiamo avuto le occasioni importanti, siamo sulla strada giusta, bisogna lavorare ancora di più e siamo felici per il risultato. Secondo te come giudichi l'episodio del calcio di rigore? Non lo so, lo devo rivedere però non è importante questo, è importante la prestazione della squadra, vinciamo e perdiamo tutti insieme, come ho detto prima siamo sulla strada giusta, siamo una grande squadra e bisogna continuare così. Continua ancora la striscia positiva, a che cosa è dovuto questa striscia positiva dei risultati? Sì, la positività è che facciamo risultati in continuità, così dobbiamo fare, adesso abbiamo due partiti in casa, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo lavorare ancora di più per portare i tre punti a casa, come il nostro obiettivo ogni domenica è di portare i punti a casa e arrivare sul nostro obiettivo.